salve cari amici ben ritrovati con la rassegna stampa questa è la prima edizione di oggi in studio con voi rosario moreno gran bretagna nell'ottanta per cento dei casi violato l'auto isolamento anche se sanno di avere sintomi e del covid non rimangono a casa la ricerca condotta dal king's college di londra da marzo ad agosto solo il 18,2 per cento delle persone con sintomi non è uscita di casa e solo l'11,9 per cento ha richiesto un tampone poche giorni fa il premier ha detto siamo un paese che ama la libertà reuters però sottolinea che il suo programma anti contagi si basa proprio sulle restrizioni intanto aumentano i nuovi casi in alcune città sono state imposti dei lockdown locali papa francesco all'onu dice condonare il debito dei paesi poveri e chiudere i paradisi fiscali prevenire l'evasione e il riciclaggio questo è il momento propizio per rinnovare l'architettura internazionale lo ha detto il pontefice in un videomessaggio inviato alle nazioni unite in occasione dell'assemblea generale per i 75 anni del palazzo di vetro bergoglio ha anche chiesto di garantire l'accesso ai vaccini contro il covid 19 e se bisogna privilegiare qualcuno ha detto che sia il più povero il più vulnerabile silvio berlusconi ancora positivo niente festa di compreanno il prossimo 29 settembre per il leader di forza italia che era stato ricoverato al san raffaele con le prime tracce di una polmonite bilaterale e ancora tempo quindi di stare a casa in confalescenza dai rimborsi del 10 per cento al super premio di 3 mila euro cosa c'è nel piano cashless del governo ipotesi e non commissioni per spese fine a 5 euro il progetto per incentivare gli italiani a usare il denaro elettronico chi partecipa beneficerà entri modi spiegano fonti di palazzo chigi per il premio per il premio a chi fa più operazione con carte non sarà importante la cifra totale chi paga un caffè alle stesse chance di chi compra una borsa 50 milioni di euro saranno distribuiti in premi con la lotteria degli scontrini caso amici della regione lombardia la moglie di fontana scrisso al fratello scrivendo chiama l'assessore sembra siano molto interessati in sei messaggi di fine marzo robertadini spiega al fratello andrea che l'assessore lombardo cattaneo sembra sia molto attivo nell'approvvigionamento ho avvisato la moglie di cattaneo che conosco un po che e vuoi dare una mano il 6 aprile il patron della dama scrive a un produttore di tessuti e dice è stato è stato cattaneo e mio cognato il governatore fontana a dirmi di contattarla residenze per anziani gestori lombardi dicono senza risposte da governo e regione e quindi chiudiamo tra minori entrate maggiori uscite inclusi i costi dello sciacallaggio sui dispositivi della gestione di pazienti che sarebbero stati da ospedalizzare durante il lock down nell'ente di fontana e gallera il settore delle rsa registrato un deficit di circa 180 milioni ora salvo rispetto degli impegni della regione maggiore attenzione al privato dal governo rischia la chiusura le conseguenze sono facili da immaginare taglio dei servizi ai più fragili perdita di posti di lavoro aumenta dei costi a carico delle famiglie autostrade a tranti a conferma cessione solo a condizioni di mercato fonti cdp dicono senza malleva si chiude la trattativa il gruppo con una breve lettera conferma che ha avviato la procedura per la cessione dell 88 per cento di aspi a prezzi di mercato e senza sconti la controllata del mef invece chiede che eventuali risarcimenti stabiliti in sede di giudizio civile per il disastro del morandi resterebbero a carico dei benetton e degli altri vecchi soci fonti interne a lanza dicono disattesi gli impegni presi a luglio la replica è stata quindi una richiesta a malleva non rientra i nostri impegni spazio firmato accordo tra italia e usa per la missione che riporterà l'uomo sulla luna la dichiarazione di intenti è stata siglata a palazzo chigi dal sottosegretario fraccaro in collegamento con l'amministratore capo della nasa il programma Artemis prevede di utilizzare la luna la luna come base operativa per l'esplorazione dello spazio l'amministratore delegato di leonardo profumo dice che l'intesa vale circa un miliardo di euro per l'industria nazionale bene cari amici con questo è tutto termina qui questa prima edizione di oggi della rassegna stampa il studio rosario moreno vi auguriamo buon proseguimento con la programmazione grazie a tutti